Cari amici, in quel momento un cospicuo numero di persone si è alzato dalla sedia a rotelle. Bruno Gröning ha dimostrato che ciò è possibile, laddove il medico aveva detto che non lo era. Avevamo l'ora di comunità a Monaco di Baviera e a quel tempo mia madre si occupava anche di quella di Colonia. Io quindi venivo sempre a Monaco da Rosenheim, dove studiavo, e lei veniva da Colonia. Ci sedevamo intorno a un tavolo. Quanti saremmo stati? 20, 25 amici. Avevamo sempre lo stesso tavolo in un ristorante. Un giorno fu portato un giovane su una sedia a rotelle. Era proprio di fronte a mia madre quando iniziò l'ora di comunità. Non lo dimenticherò mai. Ebbi la sensazione che sarei sprofondato nel terreno se non fosse stato così duro. Lei si rivolse a lui davanti a tutti i presenti. Lei vuole guarire? E io pensai, che imbarazzo! Come può mia madre chiedere a uno su una sedia a rotelle se vuole guarire? Sì, ovviamente! È come quando uno va in ricevitoria con il suo biglietto della lotteria e gli viene chiesto. Vuole vincere, vero? Che domanda è? Ma poi è arrivata la risposta. Un chiarissimo no! Ero seduto lì, immobile, e non riuscivo a capire. Non riuscivo a capire perché qualcuno non volesse guarire. Nella mia infanzia, nella mia giovinezza, a casa, mi è sempre stato insegnato da mia madre che il bene più grande che una persona possa avere è la salute. È al di sopra dell'intelligenza, del denaro, al di sopra di tutto. La salute viene al primo posto. Il denaro è potere, la salute è onnipotenza. E lui dice no! Non ci furono commenti. Poi ebbe inizio l'ora di comunità e l'argomento non fu più toccato. Ma qualcosa mi lavorava dentro. Come può una persona non avere la salute come bene supremo? La salute è la cosa più importante. Ci è voluto molto tempo e a un certo punto mi si è accesa la lampadina. Pensai, sì, è chiaro, probabilmente nella sua situazione io avrei risposto allo stesso modo. Vado dal medico e lui mi dice da molti anni sempre la stessa cosa. Lei ha la poliomilite. La parte inferiore del suo corpo e le sue gambe sono scollegati. C'è un nervo schiacciato ed è per questo che non riesce a muovere l'addome. Non è guaribile. Lei non sarà più in grado di camminare sulle sue gambe per il resto della sua vita. Se, da giovani, lo si sente ripetere più volte, ci si crede. Ora lui aveva un simpatico accompagnatore che lo spingeva sulla sedia a rotelle e, a causa del suo disturbo, avrà anche ricevuto una formazione in un istituto specializzato appositamente per persone come lui. Perciò è lì che ha ricevuto una formazione. Ha trovato un lavoro, ha persone simpatiche con cui lavorare, ha un buon appetito e gusta tutto. Dorme bene, ma non può andare a letto da solo. Quindi deve avere qualcuno che lo sollevi fino al letto. E quando è nella vasca da bagno non può strofinarsi la schiena. Allora ha qualcuno che lo lava, che gli strofina la schiena. Ah, è bello e piacevole. Lui ha un appartamento, ha denaro, non ha dolori, anche il cervello funziona bene. Cari amici, perché ora dovrebbe voler guarire? Che gli altri possono camminare è un bene, così possono servirlo. Non deve farlo lui. Quindi non ha alcun motivo per guarire. Ed è allora che l'ho capito. perché se si alzasse ora e dicesse posso camminare, per prima cosa il posto di lavoro, dove ci sono solo persone disabili, verrebbe cancellato. Lui non potrebbe più lavorare lì e dovrebbe cercarsi un lavoro. Potrebbe anche aver avuto un appartamento finanziato con queste modalità. Ora si dovrebbe trovare una casa. E poi, e poi, e poi. Perciò si sarà detto non voglio farne a meno. preferisco rimanere sulla sedia a rotelle. È giusto questo? Cari amici, no. La salute è il bene supremo. E per questo dovremmo fare di tutto. E se lasciamo che la nostra anima, il nostro serbatoio, venga purificato e facciamo da soli ciò che possiamo, anche il corpo diventerà pulito. Cari amici, se uno non vuole guarire e vi si oppone, allora non funziona. Con un non voglio io chiudo la mia porta. E il buon Dio stesso può stare davanti a me e dire vuoi guarire? Se io dico di no, allora il buon Dio dice tutto chiaro. Lui se ne va e io rimango come sono. Questo è il libero arbitrio. Ecco perché è così importante che Bruno Gröning continui a richiamare la nostra attenzione sul fatto di aprirci e di desiderare il bene così come è stabilito da Dio. grazie a tutti. Grazie a tutti.